Un saluto a tutti, sono un musicista, sono un musicoterapista e sono un istruttore di nuoto e sono tutte queste cose insieme. L'idea che cercherò di spiegarvi quest'oggi, il mio metodo si chiama Swim & Swing ed è nato diversi anni fa, prima del nome, prima del logo. È nato quando io facevo l'atleta, quando gareggiavo per lo zirinuoto, tanti anni fa, anche se adesso non si vede ma prima era un atleta, mi divertivo a suonare tutto quello che nuotavo e mi divertivo a osservare tutti gli altri atleti nelle gare, a osservare ed ascoltare quei suoni che in realtà non si sentono, ovvero quei suoni che stanno sott'acqua. E curavo tutti i particolari ritmici degli schemi motori degli atleti. Via via ho iniziato, ho costruito sempre musiche aderenti ai vari stili, quindi al delfino, quindi alla rana, quindi al dorso e allo stile libero. Ho pensato che in fondo musicisti e nuotatori sono fratelli e non lo sanno. Se voi pensate a un batterista che fa quattro cose diverse contemporaneamente e pensate a uno stile liberista che fa quattro cose diverse contemporaneamente, anzi cinque, perché respira. Quindi l'indipendenza dei quattro arti e mi incuriosiva musicare il gesto, il gesto atletico. E poi negli anni ho costruito una didattica, ho aperto dei corsi e ho iniziato in un imbarazzo incredibile. Voi immaginate che io quando ho capito che questo approccio poteva essere divertente, sì, ma prima di tutto poteva essere concreto ed efficace, ho dovuto attraversare gli spogliatoi di una piscina con una cassa in testa, una cassa di batteria in testa, un basso a tracolla, un amplificatore per basso e tra le risate della gente. Immaginiamo uno spogliatoio di una piscina, tutti che ridevano mentre io portavo gli strumenti a bordo vasca. Perché in effetti quando è un'idea e la vuoi concretizzare è difficile attraversare il primo momento, l'imbarazzo, là dove non ti senti sicuro, là dove non sai ancora cosa potrà accadere. Prima ho iniziato con me, con me stesso. Suonavo col basso e con le percussioni dei ritmi. Poi entravo in acqua, nuotavo, uscivo, lì risuonavo, mi asciugavo. Poi di nuovo in acqua, poi di nuovo fuori dall'acqua e via, che provavo esercizi del mio insegnante Massimo Moriconi, bassista di Mina, grande musicista. E ho iniziato a provare la didattica, la didattica musicale di questo luminare del basso sui miei arti e poi sugli arti dei miei allievi. Ed è interessante che questo progetto è iniziato con ragazzi con disabilità. Quindi ho iniziato a musicare movimenti che avevano difficoltà a esprimersi. Se penso a Luigi, medaglia di bronza ai campionati italiani paralimpici. Dopo un incidente stradale ha imparato a nuotare con una, insomma, marcata disabilità, lui è in carrozzina, non muove il braccio sinistro e solo col braccio destro ha imparato a nuotare sui brani di Sting, Piero Marras e il Level Fortitude. Tre generi completamente diversi, lontanissimi, ma ha provato a immaginare dei suoni con gli arti mancanti, con gli arti non funzionanti. E via via è saltata fuori una didattica interessante. Interessante a tal punto che io, che insegnavo nuoto con la musica e con la musicoterapia e facevo lezioni a persone con disabilità, mi sono ritrovato a vivere l'inclusione al contrario. Quindi persone senza disabilità che bussavano alla nostra piscina per fare corsi. E quindi si è creato un gruppo di inclusione, un progetto dove persone disabili e persone non disabili lavorano insieme, suonano insieme perché la musica non si sceglie le persone. La musica non si sceglie la persona che cammina bene o la persona che cammina in carrozzina. La musica è per tutti. È il vero strumento di integrazione, l'arte. Come l'acqua, se voi ci pensate, acqua e musica voi non potete fermarle, non le potete acchiappare, afferrare, sia la musica che l'acqua. E quindi questo progetto è andato avanti, è andato avanti, l'idea è stata finanziata dalla regione Sardegna e via via è cresciuta sempre di più. E nella mia follia pensavo ai sogni, a cosa mi sarebbe piaciuto fare. E mi ricordo il giorno che ho detto questa frase, quindi il primo dei due sogni, mi piacerebbe suonare su un campione di nuoto, su un campione mondiale di nuoto, perché già allora musicavo i video dei grandi campioni e con tutti i loro movimenti. E dicevo, mi piacerebbe musicare un grande campione di nuoto e mi piacerebbe suonarci sopra con la mia band e con dei musicisti magari di alto livello. E mi ricordo che fui l'unico a non ridere quando ho detto questa cosa, perché in effetti poi questo sogno si è appoggiato su tante risate comprensibili e quindi anche lì l'imbarazzo. E niente, sognavo questa cosa perché alla fine sognano tutti, anche i pessimisti sognano, figuriamoci un ingenuo come me. E quindi via via, che il tempo passava, ho iniziato a crederci, a crederci. E l'anno scorso, siamo a gennaio, esattamente l'anno scorso, nell'evento di inclusione della chiusura del progetto della Regione Sardegna, ho musicato la nuotata di Filippo Magnini, campione del mondo dei 100 stili liberi, due volte campione del mondo dei 100 stili liberi. Prima ho collaborato col suo biomeccanico, ho suonato tutti i suoi movimenti, ho costruito una canzone, ho suonato sopra in sala di registrazione con una band e poi, la cosa più assurda, abbiamo suonato live su Filippo Magnini. Lui è venuto, è sbarcato ad Alghero, è arrivato a Sassari, è entrato in piscina, io e lui non ci conoscevamo ed è stato un momento per me bellissimo ma terrificante perché ho detto, cioè in questa cosa ci credo solo io, io ovviamente il mio team, il mio team composto da psicomotriciste funzionali, neuropsicomotriciste, pedagogiste cliniche, musicisti, pianisti, batteristi, allenatori, quindi stiamo parlando di Nutella, acciughe, cioè di cose che apparentemente non c'entrano niente l'una con l'altra. Ebbene è arrivato Filippo Magnini, alla mia destra avevo Massimo Moriconi, bassista di Mina, alla mia sinistra avevo il chitarrista di Sanremo 2021, Max Rosati, chitarrista di Fiorella Mannoia, più la mia band, la Swim & Swing Band, abbiamo suonato live su Filippo Magnini che ha fatto un cenno, io ero sicuro che avremmo suonato ciò che accade sopra, ciò che ritmicamente è udibile e ciò che accade sotto, che non si sente, e quindi vi dovete fidare di me, perché se una nuotata è corretta sotto e io riesco a suonarla, e se un gesto si può fare, si può musicare, si può tracciare, vuol dire che ho la garanzia che quel gesto è lì, non più o meno lì, perché la musica è matematica, è emozione, ma anche matematica. E quindi abbiamo suonato live su Filippo Magnini, un po' spaventati perché non stiamo parlando degli atleti che seguo io a Sassari, fortissimi tra l'altro, ragazzini di 12 anni che sfrecciano, ma stiamo parlando di uno dei più veloci di sempre, quindi anche le nostre dita hanno un po' bruciato, quindi è stato interessante suonare su questo motoscafo che in effetti però era regolare, il suo timing era perfetto, 355 di metronomo in sette ottavi, e niente, il campione del mondo di nuoto, il due volte campione del mondo di nuoto si è incontrato nello stesso punto col miglior bassista italiano, che non sono io ma il mio maestro ovviamente, e quindi è stato per me un sospiro di sollievo vedere che dopo che lui ha fatto il 50 forte, noi eravamo lì, lì perché era tutto calcolato, quindi questo è stato veramente, veramente un punto importante nella mia vita e per tutto il mio team, manderei, perché se non faccio vedere il video ovviamente voi mi mandate lo psichiatra, perché in effetti solo pronunciarla questa cosa è folle, però manderei il video di Filippo Magnini, musicato. La bellissima voce che avete sentito è Biancafrau che ha cantato il pezzo scritto da Giulia Salis con la Swim & Swing Band. Questo lavoro sì, che ovviamente era molto veloce, è l'atleta per cui magari è difficile capire i particolari, però è stato costruito su dei grafici biomeccanici del suo biomeccanico, quindi abbiamo musicato istanti musicali, quindi la struttura proprio della nuotata è stata costruita su delle certezze, su dei movimenti musicati, con una durata corrispondente ai suoi gesti. Poi ovviamente il pezzo è anche carino, è divertente, quindi una volta che hai la base ci lavori sopra e ti diverti, perché ci sono nuotate molto interessanti, come quella di Federica Pellegrini, come quella di Popov, Michael Phelps, sto citando atleti, la stessa Benedetta Pilato. Ecco, questo è stato il lavoro razionale su una cosa che è stata casualmente divertente, insomma. Ora vorrei invece parlarvi di Luigi, vorrei prima suonarvelo, Luigi è il ragazzo di cui vi parlavo, un ragazzo che ha dovuto affrontare insomma la sua disabilità, l'ha affrontata con la musica e con il nuotto. Manderei il secondo pezzo, il video di Luigi. iscriviti al nostro canale. rallenta un pelino alla fine perché deve appoggiarsi, avendo solo un braccio lui ha bisogno di rallentare. Per il resto è stato bello suonare su un nuotatore perfetto dal punto di vista ritmico, perché questo brano è stato registrato sulla sua nuotata e lui non sentiva la musica, lui ha ricordato, perché poi fanno questi esercizi, tutti gli atleti insieme, persone del settore paralimpico e persone che non hanno disabilità, insieme fanno le jam session e poi entrano in acqua a nuotare ciò che suonano. perché questo è prima di tutto un progetto di inclusione, là dove tutti si incontrano, grazie all'acqua e all'arte. Adesso vi faccio sentire alcuni pezzi, un esempio di esercizio per esempio. Immagino la battuta di gambe di alcuni atleti che mi vengono in mente e gli esercizi che loro devono fare con i piedi e con le mani, quindi con le braccia, insieme per migliorare la loro precisione. Ora io qua sto suonando, sono ben piantato per terra, quindi se suono su un metronomo, su una canzone, sono sicuro di stare sul tempo, un po' l'esperienza, un po' la sicurezza della solidità del pavimento mi aiutano a stare sul tempo. Immaginiamo invece chi nuota, chi è sospeso, cioè chi si appoggia a un sostegno cedevole come l'acqua. Lì devi avere un massimo controllo e quindi i ragazzi si sfidano anche un po' non piacendosi, perché quando tu fai dei ritmi difficili in acqua rischi, anche se sei bello da vedere, di essere goffo. Quindi sfido la loro estetica natatoria proponendogli degli esercizi che migliorano la loro precisione. Ora, qua su loro pensano a dei pattern musicali che io suono e loro devono ricalcarli con i piedi, è sopra questo pezzo che accade tutto, no? Però faccio delle frustate con le mani che sottolineano l'incastro che c'è tra arti inferiori e superiori ovviamente a determinate velocità. Immaginiamo che la loro performance sia più incalzante. Quindi è divertente, ma allo stesso tempo... Allo stesso tempo... Ecco, se dovessi conoscere più a fondo, che ne so, Magnini, anche nella collaborazione che stiamo aprendo con lui e con Claudio Rossetto, allenatore della Nazionale, mi piacerebbe sfidarlo qua. Ovvero chiedere all'atleta evoluto di sviluppare questo tipo di esercizio prima a velocità piuttosto contenute e poi via via rimbalzare sul tempo. Ovvero adesso io riesco ad andare così veloce perché è l'intenzione ritmica, è questo respiro che do. Non mi appoggio, cioè non faccio questo. Un ritmo abbastanza granitico. In acqua non devi essere granitico. In acqua ti devi appoggiare, ti devi rilassare, per cui devi respirare questo tipo di approccio. Grazie a tutti. Grazie.